Dopo il passaggio della perturbazione attesa tra giovedì e venerdì sull'Italia, il tempo nel weekend tenderà lentamente a migliorare grazie ad un progressivo rialzo dalla pressione dovuto all'espansione di questo campo anticiclonico dalla Scandinavia lentamente verso il Mediterraneo. Tuttavia il tempo non sarà del tutto tranquillo perché comunque sulla Spagna continueremo avere una vasta circolazione ciclonica che richiamerà correnti di aria umida dai quadranti sudorientali su buona parte della nostra penisola e questo si tradurrà in nuvolosità regolare talora anche estesa in particolare sui versanti adriatici, quelli ionici e un po' su tutto il nord Italia e proprio sul nord ovest non escludiamo anche un nuovo peggioramento sul finire di domenica per l'avanzata verso est di questa perturbazione. Si tratta però di una linea di tendenza che va assolutamente confermata quindi non è una previsione certa e infatti potremo avere ulteriori importanti novità quindi vi consiglio di seguire costantemente gli aggiornamenti sia sul sito www.traviometeo.com che scaricando l'app gratuita per tablet e smartphone.